Saranno tre giorni importanti per Savoana, tre giorni dedicati agli alpini in arrivo da tre regioni d'Italia e dalla Francia. Sì, sicuramente. Sarà un'invasione pacifica, una meravigliosa invasione di penne nere. Si stimano quasi 50.000 alpini. Noi siamo veramente orgogliosi che abbiano scelto la nostra città. La nostra città si è preparata in questi mesi, si è preparata ad accogliere al meglio. È una città imbandirata, è una città con le vetrine a tema, è una città con dei fiori meravigliosi proprio dedicati a loro. Speriamo che comprendano tutto il cuore e la passione che ci abbiamo messo nel dirgli grazie, non solo attraverso l'incomio che abbiamo preparato, ma nel dirgli grazie veramente per quello che fanno per noi, nella quotidianità, ad esempio con il servizio Pedibus, ma anche nelle situazioni di emergenza, quando sono presenti con noi e con la protezione civile. Quindi grazie veramente agli alpini e viva gli alpini!